Dal dopoguerra alla crisi della civiltà contadina tradizionale. Nel suo nuovo volume lo scrittore Giuseppe Oddo ripercorre i recenti anni di storia attraversati da lotte organizzate, riforme agrarie e migrazioni. Davide Camarroani. Il miraggio della terra in Sicilia, opera imponente, 1882 pagine pubblicate con l'Istituto Gramsci e ora con l'Istituto Poligrafico Europeo, copre due secoli di storia sociale e politica dal 1767 al 1969, il quarto volume appena pubblicato a inizio dalla Seconda Guerra Mondiale. L'autore Giuseppe Oddo, uno storico con un passato sindacale nella CGL, ha impiegato assai più di 15 anni di scrittura per dar vita a questa epopea. La lunga età del latifondo, che in Sicilia procede senza soluzione di continuità dal Medioevo al Novecento, conobbe alcuni esperimenti di equità nella suddivisione delle terre nel compenso del lavoro contadino, distribuiti in vari luoghi dell'isola e sempre affogati nella repressione o nel sangue. Il miraggio della terra in quest'ultimo volume procede dallo sbarco americano alla scomparsa delle luzzole, dalla ricostruzione, dal separatismo, dalle bande armate dai decreti Gullo alle marce di Danilo Dolci per un nuovo mondo dopo il sisma del Belice, anch'esso drammatico superamento di una realtà che da secoli appariva immutabile. Alla fine di tutta questa partita c'è stata una certa restituzione di terra, circa 100.000 etere, ma spesso si trattava delle pietraie, per cui la gente poi fu costretta a scappare e ad andare all'estero. La storia della Sicilia sarebbe stata differente se la terra non fosse stata un miraggio, racconta Oddo, con abbondanza di documentazione e numerose testimonianze dirette.